L'Assemblea regionale ha approvato il documento di economia e finanza regionale, stima a meno 8 sul prodotto interno lordo nel 2020. Giuliana Miciche. L'Assemblea regionale ha approvato con ampia maggioranza il documento di economia e finanza regionale 2021-23 e la relativa nota di aggiornamento. Dai documenti contabili emerge l'attuale condizione socio-economica dell'isola a fronte degli effetti della pandemia Covid. La crisi economica ha colpito la Sicilia quando ancora non erano stati superati gli effetti di quella del 2010-2012, rendendo, come si evince dal documento approvato, ancora più pesante il mancato recupero di produttività quando l'Italia e molte regioni, anche del sud, hanno invece conseguito significativi incrementi tra il 2013 e il 2018. La pandemia da Covid-19 e gli effetti economici congiunturali hanno determinato un drammatico aggravamento. Infatti le stime dei dati regionali prevedono una diminuzione del prodotto interno lordo per il 2020, che si attesta a meno 8, mentre per il 2021 si prevede una crescita del 7,6, poi del 4,7 per il 2022 e del 3,3 per il 2023. Si tratta di una crescita molto consistente per il prossimo triennio, che tiene conto nelle previsioni delle misure strutturali e straordinarie regionali di sostegno all'economia ed in parte degli investimenti previsti da Recovery Plan. Per invertire la tendenza sono necessari i sostegni finanziari efficienti e tempestivi, proprio per fronteggiare gli effetti più devastanti e paralizzanti della chiusura delle attività e della vita sociale, ma soprattutto investimenti che rimettano in moto l'economia regionale, che altrimenti corre il rischio di contorcersi in una sindrome depressiva. Ecco perché è essenziale da parte del governo di Roma il riconoscimento di un rilevo particolare al sud e dalla Sicilia nel Recovery Plan. Il vicepresidente della regione, assessore all'economia, Gaetano Armao, commenta L'economia della Sicilia è oggi appesantita dalla grave crisi economica determinata dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. Una crisi il cui esito deve poter essere una nuova opportunità di lavoro, di impresa, di innovazione per i siciliani. Questo obiettivo si può raggiungere, ma soltanto con uno sforzo straordinario e corale. Il governo musumeci punta alla ricostruzione a partire dalle ingenti risorse convogliate dalla legge di stabilità per il 2020, che in quanto extra-regionali necessitano del tempestivo riscontro statale e dal pieno impiego delle risorse europee. Anche se non va posta in secondo piano, la questione delle necessarie misure di riequilibrio è per equazione a tutela del sud e della Sicilia, delle quali i documenti sottolinano carenze e ritardi. E' ciò a partire dalla condizione di insularità che, come puntualizzato nel documento di economia e finanza appena approvato, costa ai siciliani 6,5 miliardi di euro l'anno.